L'Arezzo a puntadera in un campo storicamente stregato, gli Amaganto non vincono qui dalla stagione 96-97 4-4-2 confermato per Didonato con Caso dall'inizio e là davanti Cutolo, Igoribaldan, Borghini, coppia d'attacco proprio Caso, va via molto bene agli saliti, Caso! Si avvicina al portiere Mazzini che chiude sul primo palo dopo un minuto, palla-gol per L'Arezzo poi un lungo lancio di Iropolo, attenzione a Decenco, Borghini l'ha un po' perso, Decenco! Primo intervento di Pissardo, poi salva Corrado, Caso, l'apertura verso Luciani osserva quello che accade in aria, parte il traversone di Luciani, non ci arriva Gogi, ci arriva il portiere Mazzini poi c'è un lancio verso Semprini, Borghini, secondo l'arbitro Lungo, c'è il fallo da parte del difensore un po' dubbia questa segnalazione, c'è il calcio di punizione battuto da Mannini, Serena tocca di quel tanto la palla finisce in rete, primo gol di campeonato per Serena e dopo 28 minuti, 29 anzi, il Ponte Nera trova il vantaggio, solito gol di testa preso da L'Arezzo tra Corrado e Borghini, c'è Serena che trova in un'area affollatissima il gol, prova a rispondere L'Arezzo, Luciani, azione quasi fotocopia quella di prima, il cross e stavolta Gogi, riesce a toccare, L'Arezzo pareggia al 37esimo è il primo gol in trasferta per Gogi, in totale sono 4, è un giocatore dal grandissimo senso del gol Gogi meriterebbe più palloni, meriterebbe davvero più rifornimenti e lui che poi carica la squadra portando il pallone a centrocampo, gran bel traversone qui e Gogi che brucia in questo caso ben assai, la palla in rete, il retro passaggio verso Pissardo che scivola e poi tocca per anticipare Semprini, è un tocco fatale, l'arbitro Longo non può che estrarre il cartellino rosso e c'è una tegola abbastanza grossa per L'Arezzo al 42esimo, rivediamo, qui scivola, il campo è molto pesante è piovuto tantissimo, poi tocca e dunque L'Arezzo fa entrare Daga, conclusione di Caponi Daga che è entrato al posto di Belloni, esterno della rete per Caponi Siamo nel secondo tempo, l'Arezzo in dieci che prova lo stesso, l'Arezzo che cerca di non perdere di vista chiaramente la prestazione, l'unità, Mannini, conclusione facile per Mazzini Pontedega che chiaramente con l'uomo in più cerca di trovare il successo Mannini, lo stop, poi l'acrobazia con la palla larga Cutolò, Luciani, l'Arezzo che non disdegna comunque di attaccare Luciani, un altro traversone verso Gogi, attenzione, c'è un abbraccio di Risaliti che lo manda a quel paese poi la palla arriva in occhio da Mazzini, che vediamo qui Luciani, traversone, il contatto con Gogi in panchina protesta a Sereni, l'arbitro Longo vuole vedere il suo numero c'è un cartellino in arrivo per Sereni, un rosso e dunque l'Arezzo perde anche Sereni che era in panchina Arezzo che però ha un buono spirito a Pontedera, ci prova ancora con Cutolo non trattiene Mazzini, Gogi, Mazzini, travolto, poi di tacco caso il salvataggio davanti alla porta del Pontedera che insiste, pallone verso Mannini, lo rimette in mezzo la parata di Daga su Calcagni, entrato nella ripresa Mannini, sterza su Cutolo, traversone di sinistro, Decenco al volo 2-1 Pontedera, all'86esimo Decenco, il quinto gol in campionato Mannini su Cutolo, traversone, qui Borghini bruciato dall'intervento volante da parte di Decenco e questo il gol che regala la vittoria al Pontedera nell'Arezzo sono entrati Rolando e poi nel finale anche più Luciani continua a protestare con l'arbitro non serve a niente, la vittoria va al Pontedera non serve a niente, non serve a niente, la vittoria va al